Grani Digitali, possiamo dire un incubatore di idee dove i giovani creano il loro futuro. Sì, finalmente oggi realizziamo questo sogno. È a radici molto lontane, però oggi è una bella giornata per il Pascal. Finalmente i ragazzi entreranno in questo incubatore d'impresa per tutta la prima metà dell'anno scolastico. E nella seconda metà dell'anno scolastico realizzeranno proprio start-up assistiti dalla Marketing Movers. Quindi con la messa a terra di queste loro idee. Il giovedì abbiamo anche la ConfCommercio che qui apre un ufficio di assistenza fiscale, di ricerca fondi. Quindi i ragazzi sono aiutati anche praticamente a realizzare per la loro start-up la ricerca dei finanziamenti. Ho la modalità più importante, più significativa, più giusta per metterla sul mercato. Quindi un'assistenza totale per permettere a questi ragazzi di lanciare il proprio sogno, cioè la loro impresa. Entrare nel mondo del lavoro e affoggia, sappiamo benissimo cosa significa, non dire grazie a nessuno, ma solo alle proprie forze. Un progetto non ideale ma concreto. Concretissimo. Già alcuni ragazzi, e quindi parliamo di team, sono partiti per il lancio delle loro start-up. C'è già la prima fase di verifica, cosiddetta verifica di screening, di questa loro idea, se il mercato recepisce o non recepisce. E quindi già stanno in questa fase. Seconda fase poi arriveranno altri sprint per realizzare poi il prodotto finale e la loro impresa.